Bentornati! Oggi andremo a scoprire un gioco che se amate costruire e arredare case, molto probabilmente diventerà il vostro gioco preferito. E parlo di Hometopia. Per chi ancora non lo conoscesse, è un building simulator co-op. Esatto, avete sentito bene? Co-op! Perché infatti potrete costruire e arredare case insieme ai vostri amici. E potrete farlo fino a 4 persone in contemporanea. Ma non solo perché oltre a costruire case, in realtà si potranno costruire interi quartieri, sempre multiplayer. In questo video vi mostrerò meglio questo gioco, ma come sempre, prima di continuare vi invito a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi se ancora non lo avete fatto. I commenti in particolar modo ragazzi mi aiutano con l'algoritmo di YouTube, quindi se vi va lasciate un commentino anche con solo un emoji di una casa, così da rimanere in tema. Ed eccoci qua alla schermata iniziale. Già come vedete c'è una bella casa moderna, ma direi di fare play e quindi let's build. E io questo gioco già l'ho iniziato su Twitch, quindi se volete andarvi a recuperare le live le trovate sempre sul mio canale Twitch, che lo lascio sotto in descrizione, oppure sul mio canale secondario dove ricarico le vecchie live. Il gioco praticamente consiste nel farti diventare un home designer, barra interior designer professionista. Quindi ovviamente noi inizieremo senza soldi e con un livello basso. I livelli sono i rank, infatti come vedete io adesso sono rank 4, e ho l'obiettivo di diventare rank 5 per poi spostarmi e prendere lavori a Midtown Heights, che è questo quartiere qua. Infatti come vedete sulla mappa ci sono diversi quartieri, abbiamo Mobile Park, qui c'è Plaza Lake, qua abbiamo dei Palms e qua dei Gables. Ad ogni passaggio di rank, quindi di livello, guadagnerete 1 reputazione. La mia reputazione è bassissima, raga, perché ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, cioè accettare i lavori e poi quittarli. E questa cosa mi ha portato ad avere una reputazione mediocre tra la mia clientela. Ma vabbè, diciamo che in questo video cercheremo di far risalire la reputazione, quindi salire di livello vi porta ad aumentare la propria reputazione. Vabbè, poi ci sono i diversi livelli, quindi c'è proprio il livello di interior designer, landscaper, quindi landscaper praticamente all'esterno delle case, builder, quando proprio devi costruire. Il planner adesso ve lo faccio vedere, perché secondo me se lo spiego non si capisce bene. Ma oltre ad aumentare queste skill, si sbloccheranno nuovi oggetti ad ogni rank. Per salire di livello bisogna accettare dei lavori che troverete nei diversi quartieri e sono sempre diversi. Io infatti, no, alcuni, tipo questo qua è un lavoro di landscape, questo qui devo costruire una stanza, alcuni sono proprio solo di arredamento, quindi arredare la casa. Quello che più vi piace lo potete scegliere. Ovviamente già vi dicono anche la paga. Io in realtà vorrei provare a fare questo lavoro qui, che è anche quello che mi dà più soldi, anche perché non ho soldi, perché li ho spesi per la mia casa. Perché sì, in questo gioco si possono avere case vostre, che potete liberamente ristrutturare, arredare come volete, ma questo ve lo faccio vedere dopo. E quindi a casa di questo sono rimasta con 136 dollari. Io povera, raga, io povera. Vabbè, quindi io direi di accettare questo lavoro. Ogni volta che si accetta un lavoro, abbiamo il nome del cliente, il tratto del cliente, perché sì, i clienti sono pure schizzinosi. Infatti questo cliente in particolare è Tirchio, infatti preferisce oggetti di qualità bassa. Vi dice anche che come stile preferisce quello tradizionale, i muri li vuole bianchi. Non gli piace il viola, le mura di mattone. Bello che la casa è solo mattoni. Vabbè, ed eccoci arrivati dal nostro primo cliente. Prima cosa vorrei farvi vedere che abbiamo la flycam e premendo le freccettine qui in alto potete vedere gli interni delle case, quindi, e scendere di piano. Premendo di nuovo si va al piano terra. Ma oltre alla flycam abbiamo anche la visuale in prima persona. E oltretutto potete anche saltare, raga. Che figata è questa cosa. Vabbè, comunque. Con la prima persona possiamo aprire le porte. In realtà lo potete fare anche con la visuale dall'alto, eh. Però con R potete premere, aprire le porte, aprire le finestre. E poi non so se lo sentite, ma interagire con gli oggetti fa partire il loro suono. E stessa cosa per le luci. Le luci le potete accendere e spegnere. Un piccolo dettaglio che però è molto apprezzato. Ma noi in realtà siamo qui per completare i nostri task. Che sono costruire un'officina e costruire, ecco, una casa sull'albero senza albero. Tutto normale, direi. Allora, io l'officina e la casa sull'albero senza albero lo costruirei sul retro. Che comunque hanno un sacco di giardino. Nella parte posteriore della casa. Comunque abbiamo già una porta che porta sul retro. Quindi cominciamo a mettere le fondamenta. Andando in build, foundation. E cominciamo a metterla. Facciamola bello grossa. Prendiamo lo strumento muro. E cominciamo a mettere l'officina che metteremo qua a sinistra. Per girare gli oggetti, raga, basta che premete Q e E. Cominciamo. Boh, farla così. Non la voglio troppo grande. E adesso mettiamo il tetto. Come tetti abbiamo il tetto normale, ma abbiamo anche quello in vetro, raga. Mettiamo quello normale comunque. Quindi facciamo così. E poi l'ultima cosa che manca è il tetto. Quindi andiamo su roof. E io metterei un tetto basso. Potete metterlo basso, che è di questa altezza. Medio, che è un po' più alto. E poi alto. Ma oltre a questi abbiamo anche quelli piatti. Quindi io parto con quelli bassi e lo voglio attaccare al muro. La stessa cosa dalle altre parti. Adesso io la stanza l'ho costruita, ma dobbiamo assegnarla. Cosa vuol dire? Questo qua è quello che stavo cercando di spiegarvi prima quando parlavo dell'abilità di planning. Praticamente, se voi andate su room planner, qua a sinistra. Eccolo qua che figa, raga. Cioè, io guardando questa cosa mi sento subito un interior designer. Praticamente, questa è un'ottima funzionalità. Se voi potete assegnare delle zone a proprio dei tipi di stanze. Quindi abbiamo la sala da pranzo, la cucina, addirittura abbiamo anche il corridoio. I tipi di stanze li trovate qui a destra. Adesso noi attualmente abbiamo solo corridoio, trilles, treehouse e workshop. Perché è quello che ci richiede il cliente, altrimenti ne avreste molto di più. Quindi andiamo su workshop e assegniamo questa stanza. Oltretutto bellissimo che vi dà le misure della stanza. Cioè, avete proprio una planimetria, ragazzi. Cioè, è veramente figo. Quindi adesso che abbiamo assegnato la stanza al workshop, i task sono aumentati. Quindi vi dice tutti i mobili che vanno inseriti all'interno di questa stanza. Per di tutto, inseriamo la porta. Quindi andiamo su install, porte. A lui piacciono comunque cose che costano poco. Qui andamenterei la più economica che c'è. Come wall covering. Ok, usiamo questo. Magari cambiamo il colore però. Poi adesso vi spiego come cambiare il colore a tutto. Perché comunque questo gioco è altamente personalizzabile. Infatti se voi andate su paint, potete cambiare il materiale praticamente di qualsiasi oggetto. Infatti se io vado su pietra, il divano diventa pietra, il tavolino diventa pietra, il tappeto diventa di pietra. I materiali comunque sono pietra, metallo, legno e tessuto. Infatti adesso se vado su tessuto per esempio rosso, stessa cosa. Cioè tutto è personalizzabile, raga. Quindi dal materiale. Che poi oltretutto ci sono pure gli artwork. Prendo questa stampa del ponte di Londra. Cioè guarda. Guarda! Bellissimo, raga, stupendo. Ma oltre a questo, facciamo finta che io voglia questo divano di pietra. Perché sì, io lo voglio di pietra. E poi se vado su swatches, mi scelgo il colore che preferisco, tipo rosso. E la pietra diventa rossa. Quindi potete scegliere il colore e il materiale. Di qualsiasi cosa. Anche il pavimento è la stessa cosa. Tipo lui ha il pavimento e il legno. Se io lo volessi far rosso, te lo faccio rosso. Ma sì dai, facciamo l'officina rossa, va. Così almeno è in pandan con i mattoni che lui odia. Ok, adesso inseriamo gli ultimi oggetti necessari. Quindi abbiamo la workbench, il banco da lavoro. E raga, basta che cliccate sulla lente di ingrandimento e vi porta istantaneamente agli oggetti. Quindi non dovrete neanche cercarli. Io adesso mi scelgo, penso questa workbench in metallo. Poi vuole anche uno scaffale. E potrei usare questo qua? Secondo me costa un po' troppo per lui. Però dai, mettiamo questo. Mettiamo i work tool. Anzi, a proposito, questa luce vorrei cambiarla. E praticamente nel gioco è integrato lo sky setting. Sostanzialmente potete o inserire facendo play il passare del tempo. Infatti, come vedete, la luce piano piano cambia. Vedete che l'ora passa a 12, 12, 36, 36, 38. Oppure potete fermare il tempo e scegliere voi il momento della giornata. Così da scegliere, insomma, l'illuminazione che volete all'interno di una stanza. Oltretutto è possibile scegliere anche l'angolo del sole, insomma, tra nord, ovest, est e sud. Oh, così vedo meglio. E la luce, ragazzi, è veramente realistica. Mi piace un po'. Vabbè, la grafica in generale è molto realistica di questo gioco. E io l'adoro. Fa molto interior designer. Non so se avete mai visto i software degli interior designer. Servono i work tools. Quindi abbiamo la sega. E poi questo qua che presumo sia, non lo so, il taglia legno. Non sono un'esperta, però vabbè. E mettiamogli lì. Ok, l'unica cosa che manca sono le luci. Quindi mettiamo una luce da soffitto. La più economica che c'è, tipo l'hanging bulb. E siamo tutti contenti. Perfetto. Glielo accendo, cliccando R. Vediamo di notte com'è, giusto per così, curiosità. Oh, va che bello. Infatti adesso, se lo spengo, buio. Luce, figata, bello, mi piace. In realtà manca una luce. Ne vuole due. Allora ti metto una da tavolo. Mettiamoti questa. Ma questa stanza, anche se è poco decorata, in realtà a lui va bene così. Io poi, il problema è che ho un budget da seguire, quindi non posso neanche esagerare. Quindi a questo punto cominciamo a fare direttamente il Trilles Treehouse. Proviamo ad assegnare la Trilles Treehouse. Chiamola qui. Ok, questo è il nostro cubottino. Copiamo questa porta. Per copiarla, ragazzi, avete proprio... Cliccate sull'oggetto e fate duplica. E vi duplicherà l'oggetto con il materiale che avete utilizzato, il colore che avete utilizzato. Cioè, è proprio identico. Una cosa che non vi ho fatto vedere e volevo farvi vedere è come fare i tetti a due spioventi. Iniziate dagli esterni per poi raggiungere l'interno. Quindi prendo sempre il medium, semplicemente lo giro. E attaccandolo a quelli che avete fatto prima, in automatico andrà a crearsi il tetto, insomma, di conseguenza. Faccio anche il resto. E faccio stavolta, invece, proprio le strisce. Quindi giro ancora il tetto e lo porto fino all'altro. Ed eccoci qui con la casettina rivestita. Io in realtà non ho quasi più soldi, ragazzi. Però vabbè, proviamo a farci stare tutto. Loro vogliono un qualcosa su cui sedersi. E io metterei la Kid Bean Bag. Mettiamo poi questo tappeto, super colorato. Oh, mettiamo anche questo. No, raga, devo stare attentissima coi soldi, raga, perché ne ho pochissimi. Giocattoli, invece. Mettiamo, boh, la piramide. Ci serve una luce. Mettiamola sempre da soffitto. Mettiamo sempre questa qua, che costa assolutamente niente. 40 dollari. Dai che ne ho 530. Come decorazioni. Vabbè, una pianta ce la vuoi mettere? Dai, costa 25, va bene. Giocattoli. Palla. Questo pupazzetto qua vicino. Mettiamo questo trofeo. E boh, questo peluche gigante. Mi mancano solo i rivestimenti. Ecco, usiamo questa qua colorata, che tanto è la stanza per i bambini. Oh, perfetto, ragazzi. Ok, con 65 dollari rivasti siamo riusciti a completare tutti i task. Incredibile. Quindi adesso io vado su Completa il lavoro. Le stanze sono venute di qualità media. Anzi no. La Triless House effettivamente è venuta a B-Low Quality, che è quello che voleva lui. Ed sono venute organizzate. Quindi io vado su Completa. Andiamo a vedere quante stelle mi avrà dato il cliente. Quindi facciamo Accetta. Oh, 4 stelle. Non male. Vediamo se riusciamo a raggiungere il rank 5. Uuuuh. Credo che abbiamo raggiunto il rank 5. Comunque, fatto sta che adesso ho sbloccato un nuovo quartiere, cioè Midtown. E oltre ad aver sbloccato Midtown, in realtà ho sbloccato altri oggetti. Allora, la cosa bella di questo gioco, la cosa che io preferisco in assoluto, sono gli oggetti del Clutter, che sono bellissimi tra quadri, piante, ma in realtà ci sono anche i libri, i pili di libri. Computer, mica computer, calcolatrici, piatti, cioè c'è di tutto a livello di Clutter, infatti lo adoro. Ma poi la cosa che mi piace di più è che i mobili sono molto belli in realtà da vedere. Infatti poi, adesso ve lo andrò a far vedere, abbiamo comunque divani tipo Adele. Intanto la mia reputazione sale, ma io sono ancora mediocre, vabbè, ok. Culle sono già dentro. Uuuuh, allora, ce l'hai fatta. Ok, adesso inizierai a prendere lavori a Midtown 8. E infatti abbiamo sbloccato praticamente la città, che sono curiosa di andarla a vedere. Però prima di andarla a vedere, volevo farvi vedere i miei lotti, le mie proprietà. Perché sì, in questo gioco, oltre a lavorare come interior designer per clienti, in realtà voi potete avere anche i vostri lotti, le vostre case di proprietà, che potete modificare come volete. I lotti li potete comprare tramite il Land Market. E come vedete ci sono diversi biomi, alcuni che ancora sono bloccati, comunque coming soon, quindi verranno presto. Però quelli che abbiamo, che almeno io ho adesso nel playtest, che vi posso far vedere, sono sicuramente un lotto montano, che grazie al preview land potete vedere senza pagare. Quindi prima guardate il lotto e poi, se vi piace, lo pagate. Questo qua è, guardate che bello, il lago montano ragazzi, con le montagne sullo sfondo, cioè meraviglia. Cioè io qui una casa ragazzi la farei subito, subito, è meraviglioso. Ma in realtà abbiamo anche lotti in riva al mare raga, meraviglia. Cioè è veramente bello, è veramente veramente bello. Cioè visivamente a me piace veramente un sacco. Lotti desertici, guardate. Oh, cioè guardate lì in fondo. Io una casa moderna ce la vedo. Ma adesso preparatevi perché il quarto è il più bello secondo me. Anche perché a me ricorda tantissimo l'Italia. Guardate. Cioè raga, non ditemi che questa non è l'Italia. Raga vi giuro, mi sembrano le valli tipo delle marche. Uguali. Guardate, guardate qua, con le balle di fieno. Peccato che non ho abbastanza soldi per comprare questo lotto, se no avrei fatto casa qua. Però all'inizio del gioco otterrete subito una casa di vostra proprietà. La otterrete a Plaza Lake. Basta andare, vedete, su My Homes. Avrete la lista delle case. Io attualmente ho la starter home, quindi andiamo a visitare. L'ho già modificata durante la live, quindi adesso vi faccio vedere anche un po' com'è effettivamente una stanza decorata senza limiti imposti dal cliente. La prima casa di proprietà vi viene già con la struttura eterna e la divisione delle stanze. Io ancora non ho sistemato tutte le stanze, ma alcune sì. Per esempio la mia stanza da letto, raga, l'ho già sistemata. Eccola qui. Guardate che bella. Ci ho messo i quadri, il letto, tutto personalizzato, la tv. Andiamo sotto. Anzi, mettiamolo in prima persona. Ecco, guarda. Io sotto ho già fatto il mio salottino, con i divani. Ma che bella! Vabbè, la libreria è da riempire. Questa è l'angolo scrivania. Cioè, raga. E poi il bello è che tutti questi oggetti fighi, raga, cioè io li ho tenuti praticamente all'inizio, perché io non ho giocato così tanto ad Omtopia. Quindi non ci mettete neanche così tanto ad ottenere questi oggetti, per esempio il divano L o queste poltrone. Cioè, ragazzi, queste poltrone sono bellissime. Il gioco comunque avrà centinaia di oggetti, quindi avrete l'imbarazzo della scelta tra mobili di qualsiasi tipo e decorazioni soprattutto per qualsiasi tipo di stanza, ragazzi. Questo gioco io lo trovo meraviglioso, super rilassante e super soddisfacente. Omtopia doveva essere un free-to-play, ma purtroppo a causa del cambio di monetizzazione di Unity, cioè il software sul quale si basano tantissimi giochi free-to-play, ahimè, questo modello è diventato insostenibile. Questo perché Unity ha deciso di far pagare le software house, quindi le aziende che creano videogiochi, un prezzo per ogni installazione. e capite bene che se l'installazione per ogni utente è gratis, un'azienda come per esempio Omtopia, come fa a sostenere il prezzo che richiede Unity? Quindi purtroppo il gioco non uscirà più free-to-play, ma uscirà a 19,99 euro. Dal 27 settembre in accesso anticipato su Steam, tenete conto che il primo mese ci sarà uno sconto del 15%, quindi se non volete perdervi questo sconto, mettete, aggiungete insomma in wishlist Omtopia su Steam, il link li trovate in descrizione. Oltretutto all'interno di questo gioco sarà compreso il Builder Pass DLC con mille nuovi oggetti e nuovi biomi. Non vedevo l'ora che arrivasse un building simulator multiplayer e con una grafica realistica e non vedo l'ora che arrivi il 27 settembre per giocare all'accesso anticipato. Ringrazio a tutti quelli che hanno visto il video fino a qua e noi ci rivediamo al prossimo video.